Grazie a tutti Lo sfidante a Lago Rosso Accompagnato da Tim Invictus Funturini Abitra l'incontro Il signor Andrea Carotti Grande applauso, grazie Ricordiamo, 62 kg 3 ripresi da 3 minuti Buonissimo, pariva! Ricordiamo, 62 kg E' la prima ripresa Grazie a tutti Mano sotto il vaccino, Mano sotto il vaccino, molto bene Roussosso, arsiamo il tumido, Prendi la gamba e ruolo, prendi la gamba, prendi la gamba, porto a giù Russotto, vai, fatti con il braccio, sfila quel braccio sinistro, sfila quel braccio sinistro, metti peso, metti il peso, metti il peso, metti il peso, infila quel braccio non puoi dire Michele, la cazza si è perdo, dai lo stesso e giriamo! vai Adri vai! esci i secondi! vai Adri vai! bravo, dillo in là! vai Adri vai! ballo sancato! sette secondi! vai Adri! metti il peso con la spalla! metti il peso con la spalla sul ferro! finire la prima ripresa! vai Adri! andiamo! 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 grazie! grazie! per la seconda ripresa! grazie! andiamo! lassù pare! via! e va via! e va via! c'è cazza! va su qua! bravo! bimbenza! bravo! bravo! ma non lo stancati! ma lo stancati! ma lo stancati! ma lo stancati! Non fare cose che non servono. Non fare cose che non servono. Non fare cose che non servono. Non fare cose come era quel braccio. Larga i plegami. Arrivare! Vada! Vada su quelle cose. Vada, vada lo staccato. Quest'anno è più. Gira, vada! Gira! Gira! Grazie! Grazie! Vada, vada, vada! Grazie! Grazie! e allora per questo primo match di MMA al peso di 62 kg vince per Gigliettina l'angolo lascio per tutti i miei e2 ringraziamo il setto l'angolo in QMG2 vince 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 un'altra cosa r может Grazie!